Radio Ucifocus Le uniche prestazioni escluse dall'aggiornamento saranno i trattamenti per i quali non è prevista la prova dei mezzi, erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, le esenzioni e le agevolazioni per il pagamento dei tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute o in forma di buoni servizio e il bonus bebè. Per adesso è tutto, al prossimo Focus!